E invece no, se fai un personaggio strano ci sta la voce da così, no? Però su un ragazzo di 15-16 anni, ti ho la voce leggera, ci sta perfettamente E seguitelo, fate quello che fa lui, ok? Quindi se respira, respira, se urla perché... Mute, ovvero sia, la mute e la sonora, in questo caso la sonora non ce l'abbiamo perché non avete la cassa lì Però di solito si fa la sonora, cioè la senti in cassa senza cuffia Poi la muta, che la senti in cuffia e poi la si incide E in questo caso non abbiamo una sonora Esatto, troppo corleone, meno corleone Andiamo a vedere Vai, Gatto Davide e Melissa Interrogati La teletanosa Ma ne vediamo se non lo vuole fare La vuole fare more Cosa? Cerchiamo di memorizzare come l'hanno fatta E se viene in mente qualcosa Questo per sviluppare il fondo scritto fisico La squadra mirata è un butto L'hanno fatta